Devo onestamente premettere che il tema del video di questa sera non mi appassiona, ma anche questo è un argomento del quale si parla, il futuro del Partito Democratico. Dobbiamo ovviamente iniziare parlando del passato. Se dovessero tornare in vita i politici che sono venuti a mancare prima del 1984 e gli dicessimo che la democrazia cristiana e il Partito Comunista nel 2007 si sono fusi in un unico partito chiamato Partito Democratico, come minimo ci risponderebbero dai, è fila di dire sciocchezza, insomma. Invece non ho scelto una data a caso. Il 1984 non è soltanto l'anno scelto da Orwell come titolo del suo celeberrimo libro, è anche l'anno nel quale scompare Enrico Berlinguer. Ebbene è vero che già negli anni 70 era stato coniato il termine compromesso storico, col quale ci si riferiva ad un avvicinamento tra i due maggiori partiti che da sempre si dividevano i maggiori favori nel corpo elettorale dell'Italia repubblicana, ossia la democrazia cristiana e il Partito Comunista. Ma si trattava in buona sostanza di una minor conflittualità fra le due forze politiche che erano e rimanevano comunque in netta contrapposizione. In nessuna occasione, ma nemmeno in un singolo comune d'Italia i due partiti hanno mai neppure pensato di governare assieme. Nel 1992 però scoppia Tangentopoli, uno tsunami che investe tutto il sistema politico del nostro paese e non ne è immune la democrazia cristiana che due anni dopo, quindi nel 1994, decide di cambiare nome. Nacque così il Partito Popolare Italiano guidato da Mino Martinazzoli, un partito che per bocca del suo leader doveva essere fondato sul valore cristiano della solidarietà. Ma l'anima più liberale del partito si scisse immediatamente dando vita, formando il CCD, cioè Centro Cristiano Democratico guidato da Pierperdinando Casini. Diciamo che il PP, cioè il Partito Popolare Italiano, guardava un po' più ai valori della sinistra, mentre il CCD un po' più ai valori della destra. Insomma, semplifichiamo in questa maniera. Intanto, anche se il Partito Comunista non era stato demolito da Tangentopoli, però non aveva minori problemi perché il crollo dell'Unione Sovietica aveva avuto ripercussioni pesantissime su tutti i partiti comunisti dell'Europa occidentale. Quindi nel 1991 il Partito Comunista, allora guidato da Achille Occhetto, si sciolse dando vita al Partito Democratico della Sinistra, mentre una parte minoritaria fondò il Partito della Rifondazione Comunista. Salto a altri passaggi, insomma, i partiti che erano appunto nati sulle ceneri dei due più grandi partiti italiani continuarono così ad avere destini un po' travagliati, continuarono a cambiare nome, ma soprattutto ad avvicinarsi politicamente. Finché siamo nel 2007, dalla loro fusione nacque il Partito Democratico, un partito che si collocava nel campo riformista, europeista e di centrosinistra. Il primo segretario fu Walter Veltroni, al quale seguirono Franceschini, Bersani, Epifani, Renzi, Martina, Zingaretti e infine l'attuale, ossia Enrico Letta. Come certamente sapete, dopo le ultime elezioni dello scorso 25 settembre, il segretario Letta si è presentato di missionario ed il prossimo segretario verrà eletto al termine del congresso che si terrà nel prossimo mese di marzo. Letta comunque, come suol dirsi in questi casi, blindato il nome e il simbolo, cioè si era infatti così pensato addirittura proprio a un cambiamento radicale, cioè come quello appunto avvenuto dopo Tangentopoli, ma pare che non sarà così, ossia si chiamerà ancora Partito Democratico e avrà come simbolo quello che tutti noi conosciamo. Entro la fine dell'anno, di quest'anno, tuttavia dovranno essere presentate le candidature alla segreteria. E dal momento ci sono due candidature che ormai sembra che si possano considerare quelle che avranno i favori del pronostico. Quella dell'attuale presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e quella della deputata Ellie Schlein, che è vicepresidente della stessa giunta regionale. Bonaccini è un emiliano della provincia di Modena, mentre la Schlein, il cui padre di nazionalità statunitense, è nata in Svizzera. La Schlein ha 37 anni e è decisamente più giovane di Bonaccini che il prossimo primo gennaio, compirà 56 anni. Ebbene, che PD sarà con Bonaccini e che PD sarà con la Schlein? Beh, molti analisti a questa domanda danno una risposta che potrebbe essere scontata. Ossia il PD in ogni caso non cambierà di molto. Ormai l'esperienza ci dice che il PD ha un elettorato abbastanza concentrato, diciamo, nelle grandi città, o meglio, nelle zone centrali delle grandi città. Chiaramente la Schlein, anche per la più giovane età, la si può identificare come una scelta di cambiamento, ma ripeto, ormai sappiamo dove questo partito prende i voti. Per cui comunque, insomma, eventualmente la Schlein dovrà anche assumere un atteggiamento, diciamo, meno sfrontato, perché ricordiamo infatti che lei nel 2015 aveva annunciato l'abbandono dal PD in polemica con l'allora segretario Matteo Renzi, da lei considerato un personaggio di destra, e aveva aderito al gruppo che era stato fondato da Pippo Civati e si chiamava Possibile. alle elezioni regionali dell'Emilia Romagna nel 2020 si presenta all'interno di una lista formata da articolo 1 e sinistra italiana, che comunque, vabbè, certamente era una lista che sosteneva Bonaccini. Ed infine, invece, alle elezioni, queste ultime, insomma, queste nazionali del 25 settembre scorso, è stata eletta in Parlamento come candidata nel collegio plurinominale Emilia Romagna II del PD. È nota, diciamo, la sua predilezione per i temi ecologisti, insomma, riguardanti clima, ambiente, insomma, i giovani arcobaleno, mettiamoli così. Per quanto riguarda Bonaccini, invece, la sua storia politica è naturalmente più lunga, ma anche più semplice, nel senso che è entrato ancora giovane nel Partito Comunista Italiano, ne ha seguito tutta la trafila come PDS, DS e infine PD, Partito Democratico. È considerato un bersaniano, ma nel 2013 ha sostenuto Renzi nella campagna che l'allora sindaco di Firenze aveva fatto la segreteria per diventare segretario del partito. Bonaccini nel 2014 è stato eletto presidente della regione Emilia Romagna e poi riconfermato nel 2020. Insomma, quale futuro per il PD? Potrei, così dire, un futuro che sa di passato.